Via! Senza voltarvi! Via! Rida! Mi ha portato! Sorsi qui! Forza! Non prendete quel battaglio! L'esco, prenderemo! Ehi, non dovresti stare qui! Laggiù, eccolo! Solo per voi la bellezza, l'unità e l'esperienza accumulata in anni di confezione! Siamo finito le scene sacre all'averto, l'asconto! Ezzio, era ora che arrivassi! Abbiamo trovato Bernardo Baroncelli, ma... Ottima notizia! Ditemi dove si trova e proveterò a toglierlo di mezzo! Questo è il problema! Lorenzo lo ha fatto arrestare alcuni giorni fa, al suo ritorno da Costantinopoli! Ma è fuggito! Crediamo possa nascondersi da qualche parte a San Gimignano! Va bene! Vedrò di riuscire a individuarlo! Come speri di riuscire laddove il resto di noi ha fallito? Ai miei sistemi! Ma che buono! Ti andoglierà! Ti andoglierà! Ti sarà perso! Ehi! Stratto! Ti ha ucciso! E se dovesse venire, se accade, continua a spostarmi! Mai nello stesso posto! Sono come dormire! Quando dormire? Dove dormire? La torre delle guardie, magari! E se non è un'azzo! Nessi di fuggire! Sì! 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 Aiuto! È qui! Un'auto è pericolo! Barza! Non imbaccia! Mi prego! Non imbaccia! Ti ammazzerai a tendenza! Devo solo prendere le cose un giorno per cuore! Si annoierà! Sarà perso! Scendi su! Subito! Ehi! Non dovresti stare qui! Barza! Non si può vedere di niente! Se accade, continua a spostarmi! In lo stesso posto! Avete visto anche qualcuno? L'acqua! Trove gli uomini di dentro! Aiuto! È qui! Vai! Entra dentro! L'assassino! Barbe largo! Vestie! Guardate dove andate! Provasce le vie salsicce! Non scappere! Guardie! Guardie! Dove sono quei maledetti? Sta lontano da me, assassino! Va via! Va via! Non ti darò questa soddisfazione! Ahimù! Sapevo del tuo arrivo! Dov'è Jacopo? Perché tu possa fargli ciò che hai fatto a me? Hai ancora tempo per ripurirti la coscienza? Ci incontriamo in chiesa quando viene detto un convegno. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescati in pace. Oh via! Sono tutti i pazzi! Salutatemi Messerbino! Valeva la pena morire per questo pacchetto! Ehi! Vorresti passare? Lo pregieremo! Maldetta è dolce! Maledetta! L'atto! Passaggio! Non può essere lontano! Dove sei qui, amico? Penso che qui ci si può fare. Laggiù! Là! Là! L'atto! Attenzione! Sto scappando! Vitello! Vitello! Anzo! Agnello! Sempre freschi! Scusate! 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 Eccoti qui! Ascolta, abbiamo trovato Stefano Dabagnone. Segui la strada e ti porterà alla abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare! Prendi! Puoi servirtene per creare un diversivo. Grazie, amico. Grazie a tutti. Per costruire l'aglio del Signore. Se pensate che al Signore interessino le nostre faccende, ingannate assai. Ma per carità, vi prego, scopatene di qui prima che chiami le guardie. Adesso vedrò chi aveva ragione. Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Sì, si incontrano all'ombra degli dèi romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescati in pace. Liberate la strada! Lo vedo, là! Non c'è più paura, ce l'ha già detto! Oh, madresla! Vai, vai! Non vai a morire! Andiamo! Meglio andarsene! Tantazione! Meglio andarsene! Vasi! Devo andarmene di qui! Ma va bene! Beata di... Meglio andarsene! Meglio andarsene! Egli una unica. Sono qui Ezio. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. Ottimo. Quel mantello. Sembra familiare. Dannati imbecilli. Il capo ha detto a Ezio. D'accordo. Alt. Fategliela per voi. Il capo bastante. Queste mura hanno retto per cent'anni e reggeranno per altri cento. Non sprecare la vita dei tuoi uomini. Vattene via. Vattene via. Lontano. Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino. Dovevi darmi ascolto. Uomini, preparatevi. L'assassino è arrivato. Devo trovare il modo di aprirla. Devo parlare con voi. Aspettate un momento. Ho visto. Sono con te. Non ci scappa. Sei finita, assassino. Mi senti? Finito. Vado i templari. Sempre a dire le stesse cose. Dov'è, Jacopo? Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescate in pace. Quiescate 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 in pace. A vedere.